ciao ciao allora in questo video con Nicola che sarebbe questo qui a concagna Carlo Alberto che c'è con un piccolo incidente guarda il dito di prima scheda si la concagna a pronto soccorso dove succederà qualcosa di strano quindi guardatelo tutto perché ci sarà una sorpresa con il dito ok intanto iscrivetevi al canale e mettete like ciao credi che dobbiamo aspettare ancora molto? Carlo Alberto è un pronto soccorso ci può volere poco come ci può volere tanto perché? perché dipende dalle urgenze capito se c'è qualcuno che è più grave di me? si più grave si ci può stare capito? un pronto soccorso insomma non è un negozio un pronto soccorso c'è tutto aspettiamo dobbiamo essere pazienti ok si si ce so ce so ce so io ma sta voce ti sembra camminare? si oh c'ho io si si chiedite a me dottor cesari dottor cesari e chi so che andai? ah non lo so oh oh eccomi eccomi oh ma tu sei dottor cesari ma saresti sassitto nico ma tu adesso ma adesso lavoro qui non lo sai? no non lo sapevo li conoscete voi due? eh si lui sordottor cesari e chi dottor cesari? ah chi asceva che Carlo è un gatto? oh un po' che carne ti sei mangiato una rana? no 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 per favore anche tu basta eh ok quindi tu stai a lavorare? ma nico sta zitto eh va bene sto a lavorare qui si ma non sei un dottore tu? eh lo so eh eh esercito in che senso? no no niente Carlo alberto tranquillo tu sta tranquillo oh tu sta tranquillo vabbè allora dicevo quindi e quindi sto a lavorare qui nico sta zitto eh non mi casco qui ah vabbè lo so qua lo so qua ti giuro sei si si so bravo vabbè che sei qua qui? no vengo quest'amico mio no? Carlo alberto Carlo alberto come cavolo Carlo? sta zitto sta zitto per favore anche lui adesso dai basta digli che è successo ho avuto un giramento di testa un mancamento mi sono trovato sdraiato si è trovato sdraiato non so dai per favore anche tu te ci metti vai eh non va bene così sai su sei il dottore devi ascoltare bene quello che ti dice il paziente mi sono trovato sdraiato mentre stavo litigando con una scimmia discolente oh che c'è contro le scimmie? niente non c'è niente contro le scimmie ok un giramento di testa? si un giramento non un giramento ok ho capito dai eh 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 come che possiamo fa? guarda quella gnocca laggiù ma di chi? quella laggiù ma chi? la vedi? no non la vedo vabbè oh Carlo alberto? è sta lì ma io ho fatto l'anestesia l'anestesia? si si è stato velocissimo tu gli hai fatto si ti ho detto che so bravo che al lavoro mio no? ma dormi Carlo alberto? oh ho avuto un'altra volta un giramento ma la R? la R? oh adesso la dico la R incredibile incredibile ma sa cioè ti ho detto che so che al lavoro mio no? incredibile tre tigri contro tre tigri tre tigri contro tre tigri sono bravissimo ora andò subito a dirlo ai sott eh? hai visto nico? bravo bravo un cordo sono cent'euro eh? cent'euro ma ehm ha un pronto soccorso una scrittura pubblica e che cordi? sa in Italia sa cent'euro come vuol dire? r r tre tigri contro tre tigri bravo ma mazza funziona ti ho detto ehm cent'euro no no ascolta io mi rifiuto mi rifiuto di pagare per una cosa che che è dovuta che è dovuta che è dovuta dalla sanità guarda qua gnocca ma chi? no non la vedo ti ho detto visto car al bè? ah? ho di nuovo avuto un mancamento corca miseria mi è tornata la R così mi cari la scanda cent'euro la R annaggia e ora come posso cari? non lo so ma vedi? sa ringanotirchio e se cagai non succedeva accidenti porca miseria e quindi? e quindi la prossima volta caghi cagito ci vedevo ciao ma Cesare Cesare Dottor Cesare e ora e ora ritorniamo a casa vabbè torniamo a casa vabbè e che vi